La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente. Prima della receta dell'Angelus, Papa Francesco si è soffermato sul primo atto pubblico del Figlio di Dio, la prima cosa compiuta una volta lasciata la casa di Nazareth a 30 anni, andare in Giudea, al Giordano, per farsi battezzare da Giovanni. Egli si manifesta così in un modo impensabile, in mezzo ai peccatori, battezzato come loro, anzi per loro. Egli è il Messia, il Re di Israele, ma non con la potenza di questo mondo, bensì come l'agnello di Dio che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno durante la Messa quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il corpo e il sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia a sé stessa. Guai! Guai! Quando la Chiesa annuncia a sé stessa, perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia a sé stessa. Porta a Cristo, perché è Lui, è solo Lui, che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà. Grazie a tutti. Grazie a tutti